Zero contagiati nelle ultime 24 ore a Londra, a meno di 10 giorni dalla riapertura dell'attività in tutta la Gran Bretagna. Un'ottima notizia per il Regno Unito, che vede i contagi bassissimi già da una settimana. Londra aveva infatti registrato solo 24 casi il 15 maggio e la capitale ha il tasso di infezioni più basso di tutto il paese. La situazione è in netto miglioramento nonostante molti cittadini siano convinti che il governo nasconda i numeri reali della pandemia e nonostante la convinzione che il virus continua ad avere una pericolosità elevata. I dati ufficiali che giungono dal governo sono tutt'altro che allarmisti. Come riportato da tutti i quotidiani, il Public Health England ha confermato che il virus ha ormai esaurito la sua forza. Intanto, come in Italia, si moltiplicano le voci critiche sulla presunta pericolosità del Covid-19. Il ricercatore medico dell'Università di Nottingham, professor Robert Dingwall, sulle colonne del Telegraph, accusa il governo di aver sparso il terrore tra la popolazione sulla mortalità del virus, imponendo i due metri di distanza sociale solo per mancanza di fiducia.